Ma perché donare è semplice come giocare? Beh, te lo spiego io! Basta andare all'ufficio dell'Avis più vicino. Loro ti spiegheranno la procedura completa e ti daranno un modulo da compilare per la prenotazione del prelievo. Quel giorno vai al centro trasfusionale che hai scelto. Lì un medico ti farà compilare un altro modulo e ti farà delle brevi e semplici domande per capire il tuo stato di salute. Poi sarai finalmente pronto per il prelievo. Ah, quasi dimenticavo! Dopo che avrai donato ti verrà anche offerta la colazione al bar. Quindi che cosa aspetti? Gioca anche tu a donare sorrisi.